... Francesca, Mr. De Biasi diceva che è mancato un attimo l'atteggiamento forse non avete costruito e sfruttato quelle occasioni che ci sono proposte poi magari un paio di errori difensivi hanno compromesso la gara nel primo tempo Sì, cosa posso dire? Diciamo che loro hanno affrontato la partita in modo veramente aggressivo noi l'abbiamo subito per quasi tutto il primo tempo secondo me oggi è mancato lo scatto lo scatto nella testa di volerla girare questa partita perché secondo me le capacità le avevamo e le abbiamo tuttora è mancato quel qualcosa in più mi dispiace per come è andata la partita perché abbiamo subito 4 gol era da un po' che la difesa stava facendo bene quindi vuol dire che c'è stato qualcosa che non ha funzionato è vero anche che in un campionato ci può stare una partita così però se ti giochi un campionato ovvio che fa male Comunque diciamo che mancano 90 minuti e non è ancora finita Sì vabbè questo è quello che si dice davanti alle telecamere tutti sperano ma sì sappiamo Più che altro perché tutte quante le squadre mettono l'impegno fino alla fine del campionato per questo motivo dico Sì sì sono perfettamente d'accordo mancano ancora 90 minuti però due anni fa io l'ho passato e so cosa vuol dire quando la squadra che è dietro di te molla e quindi so che davanti non molleranno niente questo non toglie il merito il gran merito della mia squadra e io sono più dispiaciuta per le lacrime in spogliatoio piuttosto che la partita di oggi perché la partita rimane la partita vedere compagni di squadra e amiche che piangono quello fa star male ma niente il gioco del calcio è fatto anche di questo E ricordando magari anche la scorsa stagione come dicevi questo 7 maggio non porta benissimo l'anno scorso la sconfitta di Roma quest'anno la sconfitta di Padova Io non sono per niente superstiziosa e queste cose non mi toccano per niente però cosa dire secondo me tornassimo in campo adesso subito dopo la partita appena finita secondo me ci sarebbe tutto un altro vittorio perché è un anno cioè si gioca veramente un anno sportivo è andata così io non ho nessun commento negativo da fare alle mie compagne se ce l'ho glielo dirò loro privatamente perché veramente è dura arrivare a fine campionato con la testa le gambe il cuore so che c'è e c'è sempre per questa maglia però non posso dire niente perché abbiamo fatto il massimo fino adesso quindi lo faremo anche la prossima partita lanciamo un appello finale magari per domenica per il pubblico che venga a sostenere questa squadra che ha fatto e farà sicuramente bene anche domenica comunque sì io anzi devo ringraziare perché ho visto veramente tanta gente da vittorio sono venuti qua per sostenerci e devo ringraziarli perché sono stati veramente la marcia in più quest'anno per noi sono stati sempre numerosi, calorosi quindi intanto li ringrazio per oggi e sicuramente li invito al Barison e le mura di casa a concludere al meglio il campionato devo veramente ringraziare loro e tutti coloro che sono arrivati fino a questo punto insieme a noi Allora mister che ci sia del ramarico non c'è nulla da dire comunque ci sono ancora 90 minuti e è tutta da giocarsela ancora sì il campionato finisce domenica prossima oggi purtroppo io credo che non siamo neanche entrati in campo io credo che l'approccio sia stato sbagliato è un po' così ancora caldo stavo pensando io credo che oggi abbiamo commesso quegli errori che durante l'anno non abbiamo mai commesso probabilmente la tensione ci ha atteso un po' così una trappola ma credo che queste ragazze comunque abbiano fatto un campionato onorevole in altre circostanze perdendo due partite e pareggiandone due si vincono i campionati quindi ripeto merito anche del Padua che ci ha tenuto lì noi comunque non abbiamo approcciato bene e questi sono i risultati il risultato finale conferma l'approccio non corretto alla gara diciamo che questo 7 maggio non porta moltissimo bene a questo Vittorio Veneto l'anno scorso la sconfitta di Roma e quest'anno la sconfitta di Padua sì, è chiaro che ogni partita ha una storia a sé noi dobbiamo essere bravi comunque a guardare avanti come hai detto prima il campionato finisce domenica prossima noi cerchiamo di onorarlo fino alla fine come lo stanno facendo tutte le squadre sinceramente certo, certo, sicuramente noi avevamo un obiettivo che ancora non è perso perché comunque ripeto mancano 90 minuti adesso dobbiamo un attimo così guardarci un attimo dentro se abbiamo fatto tutto il necessario tutte le cose che dovevamo fare oggi in questa partita servirà un attimo da lezione anche per un avvenire per il loro futuro perché io credo che le lezioni servano poi quando verrai magari preso normalmente in causa quindi ce le portiamo a casa ci lecchiamo le ferite e pensiamo alla prossima partita per concludere degnamente il campionato davanti ai nostri tifosi Siamo con Margherita Giubilato Margherita, un gol per te oggi un'ottima prestazione della tua squadra un terzo posto che si consolida ed era l'obiettivo stagionale mi diceva anche il nostro mister insomma Sì, è sempre stato il nostro obiettivo soprattutto oggi volevamo vincere contro una squadra molto ostica che infatti si è rivelata in campo tale e comunque è stata una bellissima partita loro non hanno mollato fino alla fine e quindi si è visto il perché loro sono state in cinema alla classifica per tutto questo tempo A chi dedica il gol di oggi? Lo dedico a mio fratello che è venuto a vedermi e quindi è per lui Obiettivi per la prossima stagione quali sono? Gli obiettivi per la prossima stagione sicuramente come l'anno scorso quest'anno ci siamo preimposte di prenderci il terzo posto quindi migliorarci rispetto all'anno scorso che eravamo arrivate quarte e quindi l'anno prossimo ovviamente puntiamo al terzo e magari anche qualcosa di più si spera Anche perché il prossimo anno con la riforma dei campionati sarà molto dura non retrocedere? Lo so, infatti parlavamo con le altre ragazze in spogliatoio che bisogna arrivare terze se no bisogna fare i play-off play-out e quindi cerchiamo per quello anche una motivazione in più per cercare di arrivare terzo qualcosa di più grazie Margherita grazie a voi Allora mister l'obiettivo terzo posto confermato oggi per questo Padova che ha fatto veramente un'ottima partita oggi L'obiettivo l'abbiamo raggiunto e ci tenevamo a raggiungerlo già da oggi sapevamo della forza del Vittorio Veneto volevamo riscattarci della partita dell'andata e ci siamo riusciti insomma bravi complimenti alla squadra perché non ha perso la calma è sempre stata unita e complimenti insomma Anche proprio sul 2-1 è rimasta unita poi ha trovato il terzo gol e lì proprio per il Vittorio Veneto è finita la partita Sì temavamo la velocità dell'attacco del Vittorio perché sapevamo che hanno delle caratteristiche importanti non ci siamo persi d'animo siamo sempre stati compatti concentrati contro questa squadra che è dall'inizio del campionato e faccio i complimenti veri e propri perché è una squadra con grandi cavalità e grandi grandi caratteristiche bravo anche il Vittorio dispiace però però comunque come abbiamo detto al mister De Biasi mancano ancora 90 minuti sì 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 mancano ancora 90 minuti noi il nostro obiettivo l'abbiamo raggiunto e basta complimenti complimenti alla squadra del Padova perché non non hanno perso non hanno perso mai la calma e bravi obiettivo per la prossima stagione dove ci sarà una serie B davvero difficile da affrontare sinceramente adesso cercheremo di finire finire il campionato l'ultima partita poi vedremo con la società i programmi gli obiettivi e ci attrezzeremo vedremo cosa cosa faremo insomma per andare per quadrare per il prossimo anno e ci attrezzeremo